Buongiorno investitori, allora vi siete considerato che nei vari gruppi che ho aperto in base ai livelli di preparazione che poi avete raggiunto in questi mesi, che ho aperto nei social, in particolare su Facebook, arrivano diverse domande un po' sparpagliate nel tempo, quindi ho deciso di creare una cosa un po' schematica così ognuno di voi sa dove si trova e quali sono le opportunità che possono eventualmente cogliere e soprattutto dove concentrare le forze, quindi attenzione, seguitemi bene, ho chiamato questo training NPL Solution, quindi vi do una soluzione per tutte le varie vostre esigenze, allora se si vuole investire con gli NPL di solito si inizia ad interessarsi come persona fisica, è un po' la meno privilegiata in questo settore, Comunque si possono studiare delle strategie per poter acquistare quindi un credito single name, cioè un'unica posizione con sottostante un immobile, quindi tu magari hai deciso di prendere un immobile all'asta, sei sicuro che l'asta salirà troppo e quindi non riuscirai mai a prenderlo a prezzo base, ti compri prima il credito e guadagni dai rilanci. In questo caso imparare le strategie del single name è la prima cosa che devi fare, non ti costerà tra virgolette un centesimo in quanto se tu scrivi work group NPL, ok? Oppure scrivi strategie persona fisica, io ti invio, se non sei già dentro questo gruppo, il link per entrare nel gruppo e accedi immediatamente a sei mesi di lezioni gratuite, le ho già registrate, quindi sono già disponibili, non dovrai neanche aspettare sei mesi perché le trovi tutte lì. Quindi scrivi strategie single name o work group NPL, poi un'altra situazione che poi spiego sempre in questo gruppo e nelle lezioni gratuite, se tu non hai voglia di studiare queste tecniche, fermo restando che le basi le devi conoscere, puoi affidare il tuo budget a un advisor NPL, cioè una figura professionale che segue le persone fisiche, un po' come tra virgolette un'agenzia immobiliare che ti cerca casa, in questo caso ti cerca la posizione nella tua città cucita su misura, in base poi al tuo budget. Poi puoi eventualmente anche affidarti a società che già operano nel settore, faccio un esempio, noi abbiamo la 115 Tulps con la Genova NPL Real Estate che abbiamo creato il 12 gennaio 2023, se tu ad esempio vuoi solo investire come socio esterno nelle nostre operazioni, basta che tu eventualmente lo chieda, cosa devo sapere per poter diventare un socio esterno? Ti verrà poi inviato in quel caso lì il corso mi associo e partecipo, è un corso gratuito che in 5-6 ore ti spiega come si può eventualmente investire come soci esterni, in questo caso puoi scrivere anche corso mi associo e partecipo, sempre gratuito, ok? Quindi questa è la persona fisica, in poche parole o ti strutturi per farlo da solo oppure ti strutturi per saper selezionare o farti selezionare da un advisor NPL, poi lo paghi ovviamente, gli darai un anticipo spese, quello che è, e poi eventualmente gli dai il tuo budget, gli spieghi quanto vuoi investire, eccetera. Oppure puoi investire come socio esterno tramite associazione di partecipazione a delle società che operano già nel settore che hanno ovviamente la licenza 115 Tulps. Poi il gradino successivo è la SRL classica, cosa vuol dire? Che tu apri una SRL per investire, ok? Con gli NPL o con gli immobili di solito, poi si fa il settore immobiliare, la preferenza è sempre quella. In questo caso dovrai crearti un network di investitori, cosa vuol dire? Di persone che investono nella tua SRL in modo tale che tu possa eventualmente acquistare, grazie alle tue competenze acquisite, il single name, ovviamente. Anche qui per imparare a fare un po' da soli con SRL o come persona fisica ti invito a chiedere il link workgroup NPL oppure scrivere strategie single name ai sei mesi di lezioni. Poi se invece tu decidi che è meglio lasciar fare le cose a professionisti, come ti ho fatto l'esempio prima delle agenzie immobiliari, ovviamente non sono le agenzie immobiliari che fanno questo lavoro, puoi creare eventualmente una convenzione con un contractor NPL. La differenza tra advisor NPL e contratto NPL è che l'advisor segue esclusivamente persone fisiche o piccole SRL, mentre invece le SRL dove dietro magari ci sono 50 investitori, è ovvio che vieni seguito da un contractor, perché ovviamente hai un budget più elevato, i tuoi investitori magari sono sparpagliati in diverse zone d'Italia, quindi il contractor NPL si interfaccia con un'unica figura, ma può avere possibilità di accedere a un budget più alto, perché siete in tanti, e in zone diverse d'Italia e quindi ci sono più possibilità che accetti di seguirti. Poi se non hai la 115 TURPS non è la fine del mondo, è ovvio che è sempre meglio richiederla, visto che poi è gratuita, costa soltanto una polizza fiduissoria 150 euro l'anno se va bene, e sì, io ho speso qualcosina di meno con la Genova NPL, qua a Genova cambia da città in città l'importo, ma stiamo parlando di 100-150 euro di polizza fiduissoria. Però se non avessi la licenza 115 TURPS, perché per poterla avere devi comunque avere dei requisiti, io ad esempio per poterla ottenere ho dovuto sospendere temporaneamente il patentino da gente immobiliare che avevo insomma da quasi 30 anni, quindi avere la licenza richiede comunque qualche requisito, e quindi se tu non puoi avere la licenza 115 TURPS, devi selezionare un contractor NPL che abbia in appoggio una società di fronting, poi ti spiegherò meglio che cosa significa nei vari videocorsi gratuiti. Poi, oppure puoi operare come se fossi una persona fisica, nel senso anche se hai un SRL, andando a delegare a un advisor una singola posizione nella tua città, quindi SRL classica senza investitori dietro, sei un po' come una persona fisica che all'advisor gli dice senti, guarda, trovami tu un immobile, una posizione di NPL con sottostante immobiliare nella zona di Torino, che ovviamente il mio budget è questo, quindi c'è questa differenza. Comunque sono delle scelte imprenditoriali che tu devi fare ancora prima, no? Cosa vuol dire? Studio e faccio da solo, oppure delego, come trovare casa privatamente o trovare casa con agenzia, così è chiaro l'esempio. Poi, andiamo a un altro gradino superiore, che è già un qualcosa di importante. Creare una SRL, come prima, ma chiedere la licenza 115 TURPS. La mia società, Genova Impier Real Estate, ha 21 soci più sottoscritto, quindi siamo in 22, io ho la licenza 115 TURPS, ho i soci sparpagliati in varie zone d'Italia, in modo tale che io posso anche affidarmi a un contractor, perché abbiamo un budget di tante persone, e in più siamo operanti in varie città d'Italia. Quindi la licenza 115 TURPS ti permette intanto di fare le cose da solo, grazie agli accreditamenti presso Debitos, Cerved, Blinks, sono piattaforme ovviamente, dei vari servicer che ti mostrano posizioni in vendita, quindi impari a fartele un po' da sole, ok? Ovviamente avere l'accreditamento nei principali portali e marketplace ti fanno entrare gratis, ma poi per poter accedere a un buon numero di posizioni o avere dei servizi un po' più privilegiati, non te la cavi con meno di 12.000 euro all'anno per servizio. Quindi se tu vai ad esempio da Duvalu Debitos, costa mi sembra sui 4,97 più IVA ogni 15 giorni sarebbe. Comunque costa circa 12.000 euro l'anno, poi se paghi un anno anticipato risparmi qualcosa, quindi è molto oneroso. Però possiamo dire che la maggior parte del portafoglio europeo sono dentro i servicer, quindi dovresti poi accreditarti. Oppure utilizzare i sistemi che spiego io qui nel workgroup NPL gratuitamente dove ti insegno a cercarteli da solo, però è ovvio che è un po' più lunga questa situazione. È un po' come se ti dovessi dire per trovarti proprietari di casa che vendono vai a fare il campanello porta a porta nel palazzo e spera che qualcuno venda, un po' come quello che facevo io da ragazzo in Tecnocasa, ok? Questo è un po' l'esempio. Poi puoi fare, come ho fatto io, un network di investitori e farti selezionare, cioè incominciare un po' a scrivere, a contattare tramite LinkedIn, tramite diversi portali, dei contractor NPL, che ripeto non sono advisor NPL, i contractor ti fanno una due diligence prima di accettarti in modo tale che verificano quante persone sono dentro il tuo network, in quante città? Paradossalmente una SRL con un milione di euro, magari con dieci soci soltanto nella stessa città, ti può rifiutare e accettare invece dieci soci che sono sparpagliati in tutta Italia magari con 800 mila euro, perché il contratto NPL predilige analizzare pacchetti dove all'interno ci sono dei sottostanti immobiliari che sono sparpagliati in diverse zone. Così sai anche un po' la differenza tra contractor e advisor. Poi, se tu hai una licenza 115 TURPS e una SRL, ovviamente con avvocati che ti seguono tutta la procedura, puoi fare anche da fronting, quindi guadagnare per mettere tra virgolette in contatto una persona fisica, una SRL senza l'autorizzazione a comprare un credito, quindi la società di fronting lo prende al tuo posto, praticamente è un taxi che in cambio di denaro, molto denaro perché ovviamente comprare un credito per una società di fronting significa poi eventualmente pagarci anche le tasse, pagare la procedura legale, l'antiriciclaggio, insomma ha una struttura messa apposta per eventualmente fare da taxi. Per quanto riguarda le società di fronting, che in Italia nessuno insegna queste cose, quindi come guadagnare, oltre a quello che fai con la tua 115 TURPS, guadagnare anche come fronting, devi iscriverti al Master Xtreme, è un percorso trimestrale MPL, ripeto, a costo zero, anche questo è appena iniziato, finirà alla fine dell'anno, quindi scrivi lezioni Xtreme, lezioni Fronting, che arriveranno poi in maniera cadenziata tutte le lezioni per tre mesi consecutivi, sono un po' più avanzate rispetto al World Group MPL, quindi chiedili tutti e due, prima ti fai il World Group MPL e poi prosegui con quelle Xtreme, perché ti assicuro qui andiamo proprio a vedere come funziona questo ambiente con SRL 115 TURPS e sfruttare o gli accreditamenti oppure sfruttare i contractor MPL, che sono molto selettivi per le motivazioni che ti ho detto io prima. Poi se vogliamo andare ancora più in avanti, ovviamente tutte queste cose qua sono progressive ragazzi, cioè è difficile da persona fisica a diventare poi il titolare dell'iniziativa di un club deal, per carità ci sono dei casi che possono che sventirmi, ma di solito si fa questo procedimento, persona fisica, SRL classica, richiesta 115 TURPS e poi club deal, club deal ovviamente lo puoi creare da solo, perché hai comunque la possibilità di aprire questa SRL con un capitale sociale versato in un arco di tempo, quindi puoi aumentare il capitale senza dover fare sempre diverse richieste e assemblee, con un sovrapprezzo vuol dire che tu metti a disposizione della tua SRL la possibilità di far entrare diversi soci di di capitale, diventano soci, ovviamente pagano un sovrapprezzo per la struttura che tu metti in piedi, ovviamente un club deal a personale, sezione antireciclaggio, gli avvocati per tutte le procedure, la restituzione dei soldi, le operazioni da fare, i sopralluoghi magari per acquistare immobili in tutta Italia, insomma è una società che lavora al tuo posto. Ecco, i club deal sono molto interessanti per coloro che vogliono creare network e una volta che lo hanno creato vogliono mettere i migliori investitori del network dentro questa nuova società per investire in maniera più aggressiva e senza dover ogni volta aprire e chiudere una società, quella è una società che rimane aperta magari in base agli obiettivi per dieci anni e guadagna poi dai suoi utili. E ovviamente il club deal è ideale se hai una SRL che magari hai aperto a settembre, in un mese di settembre e fino a dicembre hai avuto soltanto dei costi, per modo di dire, in modo tale che tu mettendo quei soldini lì, quando avrai gli interessi, o gli utili, no scusami, quando avrai gli utili, in poche parole, sono utili esentaste perché vai a compensare la tua perdita. Hai avuto costi, poi hai dei ricavi, quindi vai a recuperare tutti i costi. Non vi nego che ci sono SRL che non hanno mai concluso niente nell'attività immobiliare, hanno avuto solo costi di commercialista, costi vari, affitti, luce, enel, eccetera, che si infilano, si candidano per entrare in questi club deal che generano comunque dei profitti e quindi alla fine loro vanno a recuperare perché non pagando le tasse, perché sono costi e ricavi, quindi non pagano nulla. Ci sono anche queste situazioni qua. Quindi sono molto interessanti per coloro che hanno un SRL che è un po' lì a dormire e ha una perdita di 10.000 euro, ovvio che se poi va dall'altra parte a investire a un ingresso di soldini per 10.000 euro, cioè 10 e 10 fa zero, quindi non paga nulla. Quindi è ideale per questo motivo. È ideale anche entrare in un club deal se sei una persona fisica che però sei già entrato in un network. Cosa vuol dire? Che tu ancora stai imparando, quindi non sei ancora all'interno di questi meccanismi, il solo fatto di entrare in un club deal, se ti fanno entrare, ovviamente i club deal sono a selezione, ti fanno la due diligence, non è che puoi entrare così, non basta mettere i soldi, però ovviamente hai la possibilità, facendo parte di un club deal, di poter imparare tutte queste cose qua dai soci più anziani, più leader e quindi impari cose che ovviamente neanche in un corso di formazione ti possono erogare perché sono cose che solo se le vedi e sei all'interno puoi comprendere. Questo è un consiglio ragazzi, non vi sto vendendo niente, vi sto spiegando tutti questi passaggi. Noi arriveremo al club deal fine 2024 perché ora creando il network di immobiliaristas noi inseriremo poi tutte le persone che vorranno sviluppare delle posizioni di affari nelle loro città e i migliori ovviamente, saranno anche quelli che avranno più possibilità di accantonare dei soldi e investire in una SRL di questo tipo, entreranno poi a far parte del primo club deal di immobiliaristas, però se ne parla a fine 2024 perché per poterci definire i migliori devono anche comunque portare poi dei risultati e dei bilanci. Poi un'ultima cosa ragazzi, quindi riepilogando, se vuoi imparare le basi, basi fa per dire, degli NPL e operare come persona fisica da solo o come SRL classica da solo, work group NPL, basta che lo scrivi qui sotto e ti prendi già sei mesi di lezioni più infiniti bonus che sono già all'interno di questo percorso online. Se, e ti consiglio anche, se non hai il work group NPL, scrivi anche Xtreme, NPL Xtreme ed entrerai in un nuovo percorso, lo sto facendo adesso, gratuito, di tre mesi dove andiamo a parlare di questi aspetti qua, affronteremo poi alla fine verso Natale anche il club deal, ma ci concentreremo molto su fronting su network di investitori, contractor e pacchetti di crediti, soprattutto pacchetti di crediti, va bene? Bene, un ultimo consiglio ragazzi, se non avete tempo, se non avete voglia, se non volete mettervi voi stessi alla prova e fare le cose da soli, vi consiglio di strutturarvi per selezionare il miglior advisor NPL. Poi se entrate nell'NPL Xtreme, work group Xtreme, ovviamente vi spiegherò anche quali sono le caratteristiche da ricercare, perché ci sono advisor e advisor, ci sono advisor che ovviamente non hanno la minima capacità di poterti seguire, ci sono contractor NPL anche che servono invece se tu sei una SRL, però alle spalle investi investitori operativi, quindi che possano comunque capire qual è il valore del sottostante immobiliare, che sono in più città italiane, altrimenti non ti seguono e se ti seguono comunque te la cavi con 15-20 mila euro di anticipo spese per poi magari non trovare mai una posizione, ok? Perché il contratto NPL ovviamente per poter analizzare panieri, pacchetti eccetera, paga a sua volta accreditamenti marketplace, avvocati per posizioni, due diligence, eccetera, è ovvio che ti chiede un anticipo spese che può andare dai 10-15 mila euro fino a cifre molto più importanti per operazioni da 5-6-7-8-10 milioni, ovvio che se tu vuoi trovare un immobile a 200 mila euro il contratto NPL non va bene per te perché ammesso e non concesso che ti accetti vai a perdere già un 20% del tuo capitale, mentre con l'advisor per singola posizione se siete uno o due soci va bene l'advisor NPL dove gli dai magari una o due città, è ovvio che lì te la puoi cavare con un massimo di 10 mila euro di anticipo spese, perché anche loro sono accreditati e poi con un 8-10% di provvigione quando compri il credito che ovviamente ci sono advisor che ti fanno pagare sul GBV, cioè il gross book value, cioè l'ammontare dei crediti per detta la semplice, oppure ti fanno pagare sul valore concordato con l'originator, quindi se offri 500 mila e lo compri 500 mila loro possono prendere dall'8 al 10%, ragazzi io non sono un contratto NPL, non lo farò mai, non sono un advisor NPL, non lo farò mai, vi dico quelle che sono le provvigioni di questi professionisti e gli anticipi spese, se invece sei piccolino e quindi ancora hai un budget di 80-100 mila euro è ovvio che comunque te la puoi cavare con 10 mila euro di anticipo spese, è ovvio che il lavoro te lo portano a termine perché sono professionisti, se l'accettano insomma ti faranno firmare anche poi un contratto dove ti daranno poi delle determinate garanzie, ma ripeto, l'advisor e il contractor si utilizzano esclusivamente se non vuoi stare tu a fare dalla mattina alla sera questo lavoro, molto difficile ve lo assicuro, io sono amministratore della Genova Imperial Estate quindi so cosa vuol dire perché è un anno che ci sto dietro e so cosa vuol dire anche affidare il lavoro a dei professionisti che ovviamente sono strutturati, hanno staff spese importanti di investimento per questi accreditamenti, è ovvio che te li fanno pagare, te li fai da soli insomma, un po' come ho iniziato io tanto tempo fa. Bene ragazzi, direi che ci possiamo vedere nei social e possiamo vederci anche nelle video lezioni, pronte e non pronte, quindi scrivete World Group MPL oppure scrivete MPL Xtreme per frequentare questo percorso trimestrale che ripeto non ho nessun interesse ormai a vendere formazione perché da gennaio sapete che mi sono spostato su questi ambienti e quindi ve li do a costo zero perché ormai mangio d'altro quindi mi posso permettere anche di regalarvi delle informazioni. Bene ragazzuoli ci vediamo nei gruppi, scrivete nella sezione commenti quello che desiderate e poi dopo di che vedrete che in un modo o nell'altro arriviamo a raggiungere l'obiettivo o insieme o anche separati. L'importante è cominciare a informarsi e a capire un po' di più nel tempo libero, ti basta 20 minuti, mezz'oretta al giorno di video di Francesco Gentile e vedrai che dopo un mese ne sai più di quelli che frequentano corsi a pagamento. Un abbraccio a tutti!